La commedia di Francesco Bruni, Tutto quello che vuoi, fa parte della cinquina dei nastri d'argento 2017 per il premio di miglior film. Intervistato a margine della serata in cui sono state annunciate le candidature a Roma, il regista ha commentato. I premi per me sono una festa, insomma l'occasione di vedere i colleghi, di stare in compagnia, non attribuiscono un'importanza enorme. Mi fa piacere ovviamente avere delle candidature e anche ricevere i premi, però mi piace, sono contento perché il film sta piacendo tantissimo al pubblico e la gente lo sta tornando a vedere per la seconda volta, quindi sono molto felice soprattutto per questo. Di Giuliano Montaldo, 87 anni, attore e regista che nella pellicola interpreta l'ultraottantenne Giorgio, dice Comunque aveva recitato anche in tempi recenti con Verdone, torna da protagonista, è stato disponibile fin dall'inizio. Per me era una condizione indispensabile per fare il film e lui si è prestato con grande gioia per poter stare sul set, per poter fumare sigarette in santa pace.